benvenute allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 11 del livro shake valido fino al 12 settembre 2018 album che tutta l'insegna del detox perché abbiamo la nuova linea per i capelli quella anti inquinamento quindi perfetta per una remisa in forma promozioni per la cura dei capelli per il make up per la cura dei piedi promozioni per il viso davvero set regalo c'è davvero tantissimo da sfogliare le nuove maschere viso anche quelle in promozione che sono assolutamente da provare iniziamo a sfogliare il catalogo allora eccoci iniziamo a sfogliare il catalogo vediamo subito la novità che è il trattamento capelli anti inquinamento e prodotti che vanno a pulire delicatamente cuoio capelluto senza gradire i capelli però intanto li proteggono dalle agressioni esterne allora la promozione è lo shampoo di trattamento 795 si può scegliere tra le novità che sono il gommage per il cuoio capelluto lo shampoo micellare detox o il balsamo effetto scudo però tranquillamente si può scegliere un qualunque shampoo col codice nero e il trattamento a scelta col codice rosso tra tutti quelli proposti lo shampoo qualunque il trattamento qualunque 795 quindi i trattamenti possono essere anche questi lo shampoo tranquillamente tra anche gli altri proposti e ci si gioca molto con le varie linee tra tutti questi ovviamente anche questi tutti quanti e quelli qui anche questi altra novità e quella qui sono le maschere viso quindi abbiamo quelle a livello spinoso che una maschera luminosità oppure quella con la linfa d'agave che una maschera rivitalizzante o quella col caolino che l'argilla bianca che è una maschera purificante per il viso la promozione 6,95 euro due maschere quindi la prima col codice nero e la seconda col codice rosso tra tutte quelle che ci sono potete scendere due uguali oppure giocare con le varie maschere vediamo la promozione per il corpo quindi il set detox più nutrizione 12,95 il gommage vegetale più latte nutriente oppure il sempre il gommage più latte idratante sempre 12,95 vediamo il set per la cura dei piedi perché sono importanti anche loro ed è quest'estate sicuramente con sandali o scalp aperti li abbiamo molto messo alla prova 13,95 il gommage piedi il top coat per le unghie effetto gel e la crema nutriente per i piedi promozione make up eccola qui perché abbiamo le matite queste vegetali tutti i colori che sono questi e questi e due matite a 12,95 la prima col codice nero la seconda col codice rosso come sempre e sono davvero molto molto valide e ora vi mostro le idee regalo il set che vanno bene per ogni occasione quindi il set al cocco con il bagno doccia fiore di giongang il latte corpo e la crema mani sapone vegetale la salvietta bio e questa scatolina oppure il set maniglia barbo con sempre il bagno doccia latte corpo la crema mani sapone la salvietta stessa cosa per il set mango e coriandolo oppure il set oliva e pietro grani sono sempre uguale sempre 14,95 cambia solo la profumazione perché in base alla profumazione si ha i vari prodotti poi altro set invece questo nocci di cocco a 19,95 in questo caso si ha il bagno doccia la 400 latte corpo la crema mani sapone vegetale la salvietta viso e questa scatola a scrigno e stessa cosa diciamo 95 con le altre profumazioni quindi mango e coriandolo lampone menta piperita mandorle fiori d'arancio lavandina mora olive petit grain e 19,95 ultima promozione questa che si può avere eccola qui la promozione nutrita rigenerata quindi il balsamo doccia ultranutriente latte ultranutriente intensivo per la pelle molto secca concentrato antifreddo concentrato con carité salvietta viso e il box e questa era tutto l'album abbiamo sfogliato tutto l'album come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box per link c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico trolle mondo di vero su